Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo per il fine settimana sul Piemonte. Analizziamo prima di tutto la situazione a grande scala. Un'area di alta pressione presente sull'Europa occidentale da qualche giorno convoglierà correnti nord-occidentali secche sulla nostra regione, garantendo per tutto il weekend tempo stabile e soleggiato. Scendiamo quindi nel dettaglio. Sabato sarà una bella giornata con cielo sereno su tutto il Piemonte. Solo in mattinata si avrà il veloce transito di qualche velatura. I venti soffriranno settentrionali con valori moderati in montagna e locali rinforzi anche di forte intensità al mattino sulle Alpi, Le Pontine, Pennine e Graie e nelle vallate adiacenti per residui e condizioni di feng, in esaurimento nel corso della giornata. Lo zero termico è previsto in calo al mattino fino a 2200 metri e stazionario nel corso della giornata, con valori più bassi sulle cresse di confine. Le temperature si prevedono in diminuzione sia per i valori massimi che per quelli minimi. Passiamo a domenica, dove il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Saranno presenti locali foschie sulle zone pedemontane orientali e meridionali dal pomeriggio. I venti soffriranno generalmente deboli, con rinforzi in alta montagna su Alpi, Pennine, Le Pontine e Graie e sull'Appennino. Soffriranno da nord-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino. Lo zero termico è previsto in aumento fino a 2500 metri. Anche per domenica le temperature si prevedono in diminuzione sia per i valori massimi che per quelli minimi. Da Arpa Piemonte è tutto, un saluto e buon weekend!